L'avvio deludente di stagione della Battipagliese costa la panchina a mister Vincenzo Fusco. L'esonero è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri con un comunicato nel quale la società ha ringraziato Fusco e i suoi collaboratori per l'abnegazione del sacrificio con cui hanno lavorato in questi mesi, augurando loro le migliori fortune personali e professionali. Al suo posto la Battipagliese ha scelto l'ebolitano Mario Pietropinto, tecnico che vanta esperienze con moltissime realtà del panorama regionale, tanto da ritagliarsi il nomignolo di Stregone. A lui il compito di cambiare atteggiamento della squadra per le prossime gare di campionato.